ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale rieccoci qui con car mechanic simulator 2021 signori vi porto un nuovo episodio perché è stato aggiunto un nuovo aggiornamento abbastanza corposo e tra l'altro anche tantissimi auguri di buon natale da car mechanic simulator 2021 come detto ragazzi è un nuovo aggiornamento hanno aggiunto veramente una marea di cose vi faccio vedere quello che hanno aggiunto hanno aggiunto dunque dov'è che era dov'è che era hanno aggiunto nei pezzi di potenziamento innanzitutto hanno aggiunto anche la frizione v10 poi hanno aggiunto qualche altra cosa che nel negozio di potenziamenti ovvero nel negozio tuning vi faccio vedere un attimo ecco qui hanno aggiunto i dischi dei freni molto più avanzati che dire è stato un aggiornamento veramente molto molto corposo come detto stiamo parlando della versione 1.0.17 hf2 dunque disco dei freni ventilato scanalato scanalato b disco dei freni ventilato b quelli là in carbonio penso un po tu che cavolo di figata sono comunque sia in ceramica ventilati di carbonio signori che dirvi è veramente un ottimo aggiornamento a parte il fatto che lo stavo aspettando anche da un po' di tempo ed ecco qui la frizione v10 nel negozio tuning riguardando invece nel negozio dei motori hanno aggiunto mi sa questa roba qui aspirazione bc m64.01 se non vado errato questo qua che cos'è un converter proton er va bene e insomma ragazzi hanno aggiunto una marea di nuove cose per gli amanti della meccanica come tra l'altro anche a me e quindi signori quest'oggi ci facciamo un episodio su questo nuovo aggiornamento innanzitutto ragazzi io qui ho iniziato a costruire il mio motore come potete ben notare questo motore qui andrà installato in questa nuova macchina eccolo qui questa macchina qui se non vado errato mi sa che dovrebbe essere una sakura takumi e infatti come potete ben notare è veramente messa malissimo vediamo un attimo vediamo un attimo perché innanzitutto questi qua sono i pezzi che già ci stanno sotto la macchina quindi andremo completamente a rifarla però prima di fare questo voglio utilizzare un attimino la saldatrice ok almeno vediamo un attimino se si toglie la ruggine eh sì più o meno sì si è tolta tutta quanta la ruggine ora spostami questo toglimi questo e iniziamo a lavorare sulla macchina vediamo un po' ragazzi facciamo sempre pezzi verniciati sempre pezzi fatti abbastanza buene almeno così abbiamo anche la possibilità di poter utilizzare i nuovi dischi dei freni tacchete ci abbiamo anche lo svitol infinito e che cos'è dunque dica buon uomo aspetta un attimo fatemi togliere anche l'altra roba di qua ok a posto toglimi anche l'ammortizzatore che poi dopo magari andremo anche a modificare eccetera eccetera toglimi anche la barra antirollio lo so è tutta quanta roba che dovrei segnarmi però per il momento va bene facciamo prima tutta quanta la parte anteriore così magari gli possiamo mettere anche il motore eccetera questa macchina uscirà veramente una cosa fatta benissimo tacchete togli tutto toglimi questo togli anche questo la cremagliera me la togli e come detto ragazzi iniziamo quantomeno a sistemare la parte anteriore forse magari possiamo fare anche che sistemiamo i pezzi che abbiamo tolto di qua però non lo so non lo so vediamo un attimino quello che possiamo fare sì perché avevo una mezza intenzione di sistemare un attimino questi pezzi però non sarà tanto facile sistemare questi pezzi maledizione sì va bene facciamo così acquista tutto nuovo e non ti preoccupare no aspetta inizio quantomeno ragazzi a segnarmi tutto questi qua no queste boccole in gomma questo questo e credo basta ok vediamo un attimo vediamo un attimo iniziamo dal negozio principale sterzo confuso ne abbiamo bisogno di ben due cremagliera uno questi qua due che sono le la biella di accoppiamento coperchio del fuso numero due naturalmente mozzo della ruota due bene cuscinetto sempre due coprimozzo due due pastiglie per il momento pinza del freno sempre un paio almeno per il momento per il frattempo ragazzi prendiamo soltanto la roba che va nella parte anteriore e poi dopo magari alla fine vediamo un po' se fare anche la parte posteriore sempre in questo video ma ne dubito no questa qui la prendiamo nel negozio di tuning del cambio eccetera albero di trasmissione anche mi serve olè perfetto ottimo e naturalmente vado a prendermi anche le boccole in gomma che ne sono quattro per la sospensione mi servono anche i due ammortizzatori anteriore quindi li vado un attimino anche a prendere dov'è che sono dov'è che sono qua però riguardante invece nel negozio tuning beh li potevano anche aggiungere forse magari li potranno aggiungere con il prossimo aggiornamento di questi qua me ne servono ben due e le molle le molle anteriori anche due e mi servono anche i cuscinetti va bene perfetto ottimo e basta non mi serve nient'altro signori si va la verniciatura bene si inizia a verniciare tutto vediamo un attimino che tipo di colore farli dunque iniziamo da questo volevo fare più o meno questo arancione sì questo arancione già mi garba e con questo abbiamo terminato perfetto ottimo possiamo iniziare ad andare a montare tutto soltanto le ammortizzatori ovvero le molle le ho fatte di colore rosso monta uno due e tre ed eccole qua sì ho fatto più o meno un arancione barra rosso toglimi questo e iniziamo a montare tutta quanta la parte di sotto poi dopo magari ci concentriamo anche su altre cose per il momento iniziamo a mettere queste ecco qui boccole messe iniziamo a mettere anche quest'altra parte questo ah cavolo mi ci mancano un attimino le boccole in gomma dov'è che stanno boccole in gomma ne facciamo altre quattro va bene perché mi servono anche per questo sì infatti perché ne avevo preso soltanto quattro per questa parte qui mentre per l'altra invece no mi ci sono completamente dimenticato facciamo un lato per volta visto e considerato che abbiamo il negozio del tuning con i freni allora questi qua ragazzi danno più 4% di potenza però questi qua 3,5 3,5 questi qua sono ventilato forato e scanalato non lo so non lo so voi che dite facciamo questo qua che costa un pochettino di più ma sì dai facciamo direttamente oh magari questo qua vediamo vediamo un po' o questo o questo voi che dite questo ventilato forato e scanalato per me ci starebbe anche bene anzi no aspettate però questo qua è di meno mettiamo questi qua da questi qua è in carbonio ceramica di carbonio mamma mia e che te lo dica fa che bello sì ragazzi ripetisco hanno fatto veramente un ottimo aggiornamento su questa cosa qui ora non vorrei dire per me hanno fatto veramente una cosa buona mettimi anche questo questo qui che dall'altro lato mi sono anche dimenticato come un pirla va bene non è un problema perché posso sempre ritornare indietro e rifarlo questo qua anche lo mettiamo l'ammortizzatore e come un cretino mi sono dimenticato anche di farlo dall'altro lato bene ole ole mettimi questo qui perfetto beh signori che cosa dirvi è uscito anche fin troppo bene questo lavoro cioè almeno per il momento siamo ancora nella parte anteriore voi fate un po' conto voi di quello che potrebbe uscire alla fine perché gli pneumatici lascio quelli standard naturalmente li dobbiamo comprare quelli là nuovi riguardanti i cerchioni invece li andremo a cambiare ed è una cosa che possiamo fare in questo preciso istante guarda qua che figata sì signori ha vinto tutto benissimo perfetto non sta lo smontagomme no mi sa che io lo smontagomme già l'avevo sì infatti dunque mettimi questo che è un 70R13 bene R13 vediamo un attimino quello che riesco a fare riguardante gli pneumatici perché come detto gli pneumatici mettiamo sempre i suoi che sono aspettate no aspetta perché me l'ha dato da 12 quando invece è da 13 scusi buon uomo non è da 12 ma è da 13 185 70R13 185 70R13 100 madonna 185 70R13 185 70R13 ok inventario vediamo un attimo 13 13 12 no perché non sono questi 185 70R13 perfetto devo soltanto mettere un cerchione da 13 che è il cerchione da 13 vediamo un attimo anche che cos'è che hanno inserito riguardante i cerchioni secondo me dovrebbero essere rimasti sempre gli stessi eh sì più o meno sono rimasti sempre gli stessi anzi no Carrera GT ah hai capito sono più o meno carini eh non del tutto però diciamo quasi più o meno carini questi tipi di cerchioni purtroppo non mi piacciono sono un po' guarda eh 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 magari della Paganizonda madonna questi qua sì che so frontali e posteriori prendiamo da 13 vediamo un po' signori li possiamo lasciare anche dorati monta li possiamo lasciare anche dorati però no non mi piacciono eh togli no aspetta non montare smonta sapete perché? è troppo piccolo dovrei allargare un attimino il cerchione invece da 13 magari lo possiamo fare non lo so allora togli invece da 13 magari lo possiamo fare da ben 17 vediamo un po' 185 70 se lo facciamo da 17 185 70 proviamo con uno per il momento e poi prendiamo sempre questo però da 17 vediamo un po' che cos'è che ci esce fuori monta 17 17 ebbe dai ebbe dai già da 17 pollici ci sta abbastanza bene però il cerchione non lo so però si potrebbe anche fare non lo so voi che dite? guardiamolo diciamo che ci potrebbe anche stare vediamo un attimo qui com'è che ci sta e signori non lo so voi che dite? secondo me sarebbe meglio un attimino un po' troppo più grosso lo so spenderemo un patrimonio dietro di cavolo di cosi allora l'abbiamo fatto da 17 lo facciamo da 20 ok gli pneumatici sono sempre quelli standard che 185 70 no da 20 arrivano a 2.25 di larghezza 65 di profilo vediamo un attimo monta questo con questo oddio madonna che bestia diciamo che ci potrebbe anche stare fatemi da un'occhiata qual è? questo qui che non ha la convergenza è impossibile ma vaffancle perché non c'è l'equilibratura di sta cippa e vabbè ci sono io per giudicarti buon uomo faccia un po' contro lì e allora quello là da 17 no era quello lì da 20 oh madonna che bestia madonna madonna mia da 20 mi sembra un pochettino troppo eccessivo mamma mia è un cavolo di casino forse magari è meglio da 18 vediamo un po' dunque facciamo un 17 da 18 pollici 18 205 70 proviamo vediamo un po' che cavolo ne esce fuori pneuma si cerchioni eccoli qua da 18 monta questo e questo ah si diciamo che già da 18 pollici potrebbe andar bene ora è tutto da vedersi com'è che ci sta sotto l'auto naturalmente togli vediamo ma monta monta fatemi vedere abbassa voi che dite signori è troppo grosso? anche secondo me anche secondo me quindi facciamo direttamente un normale quindi da quant'è che erano quelli là standard se non vado errato mi sa che erano da 13 si facciamo direttamente da 13 ne prendo direttamente ben 4 e si signori mettiamo direttamente quelli là normali che sono questi 1857013 1857013 mettiamo direttamente questi ragazzi e basta perché li vedo un po' troppo grossi per un'auto del genere perché non è che dite che deve andare oddio alle corse eccetera monta 13 1857013 va bene dai su facciamolo così lo so potrebbe sembrare un pochettino troppo piccolo però lascia fare è tutto come ci pensi bravi tutti bravi tutti togli monta equilibra 13 ok togli monta attacchete togli togli metti madonna olè abbiamo fatto tutto ok a posto dopo fatto questo vediamo un attimo 13 13 13 13 e questo via bene possiamo passare adesso o con il montarci il motore vediamo sposta ponte a il motore me lo metto nell'inventario che qui quest'uomo non ho capito come cavolo è che fa mettersi un motore intero in tasca rimuovi il motore benissimo perfetto aspetta buon uomo dica monta questo qui è tutto quanto al 100% credo che non ci manca niente va bene soltanto più dopo alla fine la ridagliela mettere liquidi eccetera eccetera oh lala guarda qua che figata di motore che non abbiamo ok perfetto possiamo montare anche la scatola del cambio soltanto lei per il momento questa qui ah l'alternatore non ho preso l'alternatore bravo anzi motorino d'avviamento scusate vediamo un attimo negozio di elettronica eccolo qui riguardante negozio del tuning vediamo un po' lo scarico eccolo qui bene così montiamo questo anche se nero non fa niente e mi monti anche questo benissimo perfetto dopo possiamo montare anche altre robe vediamo questo 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 va bene vediamo un po' iniziamo a togliere anche tutta quanta sta roba arrugginita di qui anche perché qua un altro un altro pochino di tempo ragazzi ce ne abbiamo che bisogna togliere aspetta perché mi dimentico sempre 1 e 2 tutte e 2 arrugginiti guarda qua tacchete tacchete e dai tacchete tacche togli togli questo togli l'ammortizzatore togli questi dagliela e che cos'è basta e che cos'è sì perché io non faccio in tempo a non fargli a fargli togliere il pezzo che subito clicco l'altro sotto ma vabbè lascia fare questo questo qui grippato proprio come se non ci fosse un domani togli togli toglimi pure questo toglimi questo e ok perfetto inventario dunque questo 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 qui questo questo che cos'è che serve più nient'altro ok va bene dunque iniziamo a vedere qua nel negozio tuning scarico niente motorino avviamento niente va bene asse posteriore vediamo un po' che cos'è che abbiamo qui qui niente negozio tuning niente ok a posto credo che non ci serva più niente perché ho preso completamente tutto ai freni ai freni bisogna prendere soltanto il cilindro della ganascia cilindro della ganascia ah cilindro motore bc m64 no hai capito hanno aggiunto anche questo non non lo sapevo ok a posto abbiamo tutto che cos'è che devo prendere più dovevo prendere altre cose no se non mi ricordo male no dobbiamo semplicemente verniciare la roba però se magari contribuite a questo nuovo video di questo nuovo aggiornamento di car mechanic simulator 2021 nel prossimo video ci sarà anche la seconda parte dove andremo a sistemare la parte posteriore metteremo anche le marmitte eccetera eccetera faremo una bellissima colorazione a questa macchina non lo so forse magari stavo pensando più ad un bianco o ad un nero o magari ad un rosso magari vediamo un attimino possiamo sviluppare il colore di questa macchina niente ragazzi io concludo qui questo nuovo appuntamento della serie di car mechanic simulator 2021 mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate e mi raccomando lasciate like commentate iscrivetevi attivate la campanellina condividete il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti